Bentornati su MyFootballGersey. A grande richiesta, visto che me l'avete chiesto in tanti, vediamo oggi la prima maglia del Milan per la prossima stagione in edizione Player. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però vi chiedo di lasciare un grande like ma soprattutto di iscrivervi al canale. A voi non costa niente iscrivervi e ci permette di avere sempre nuove recensioni. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player.